È stata un'edizione molto particolare perché c'è un cambio di marcia, è già un po' naturalmente che coviamo questo cambio di marcia, però quest'anno direi che ha fatto lo scatto, il grand'angolo, di riconoscere che le cose sono cambiate e adesso mi spiegherò in un secondo. Faccio quattro punti che rappresentano un pochino le, diciamo, i highlight degli avanzamenti e di cosa sta succedendo in oncologia. Il primo punto riguarda i grandissimi avanzamenti in termini di miglioramento della prognosi. Il secondo punto riguarda il fatto che questo non avviene su tutti i tumori, c'è una forte asimmetria di ciò che avviene in certi tumori rispetto a ciò che avviene in altri. Il terzo punto riguarda l'estrema complessità che sta intaccando la possibilità che un oncologo da solo copra tutti i temi dell'oncologia. E la quarta riguarda la sincronia tra questi avanzamenti che ci sono e la disponibilità dei farmaci che hanno prodotto questi avanzamenti. Per il primo anno abbiamo esplicitato ciò che già da due o tre anni e covavamo ma che non erano statement, diciamo, confessabili esplicitamente, apertamente. E cioè che in alcune neoplasie questi plateau che si vedono a lunghissimo termine dei PFS, cioè il Progression Free Survival, cioè persone che non vedono il tumore crescere per anni e anni e anni, che a un certo punto diventa inevitabile poter andare a dire che noi possiamo guarire condizioni di stadio 4 di neoplasie disseminate. Questo è esattamente quello che ha fatto Andrea Ardizioni, chairman della sessione sul polmone, in cui ha proprio quantizzato la possibilità di guarigione. dice che siccome abbiamo un 20-25% che ha 8-10 anni è in PFS e alcuni casi di questi operati, levata la malattia residua, è stato trovato solo un grumo di linfociti, in questi casi possiamo parlare di guarigione. Quindi purtroppo è vero che possiamo fare questo solamente in alcune neoplasie. Il polmone è uno, il melanoma è un altro. Ecco, e qui arriviamo al secondo punto, e cioè la asimmetria di questi avanzamenti. C'è il detto che un po' corre il cane, un po' corre la lepre. Ecco, quest'anno i cani e le lepri che hanno corso sono state certamente il polmone, certamente la mammella, certamente la vescica, 25 anni che non si muoveva niente, e adesso c'è stata una vera rivoluzione, certamente l'endometrio e certamente il melanoma. Ok, ma per situazioni come il pancreas, che è fermo al palo da 15 anni, o anche per quello che riguarda, per esempio, i GIST, che sono stati degli antessignani dei risultati fantastici delle targeted agents, ebbene, purtroppo quelli sono rimasti al palo, con pochissimi avanzamenti. Quindi a volte bisogna stare attenti, attraverso i media, di non dare il messaggio a tappeto che il cancro è in fase avanzata, si guarisce, tutt'altro. Abbiamo sempre i 180.000 morti all'anno in Italia, degli stadi quattro, che purtroppo funestano il nostro stato di salute. Il terzo punto riguarda la complessità. Grand Angolo è nato 25 anni fa col specifico e dichiarato scopo di riuscire a dare un overview degli avanzamenti che in genere erano molto modesti su tutti i tumori, in modo che gli oncologi, soprattutto quelli che si trovavano nelle condizioni a dover coprire tutte le patologie, potessero avere un buon aggiornamento. Ecco, è chiarissimo che a fronte di 12 tipi di tumore del polmone, di cui 11 oncogene driven, e poi c'è il problema dell'immunoterapia con il PD-L1 e l'espressione del PD-L1. Per non contare poi gli altri due tipi di tumore del polmone, cioè il microcitoma e il mesotelioma, è assolutamente impensabile che un oncologo che si occupa di mammella e di colon possa anche coprire il polmone. Lo copre certamente, ma lo copre in maniera subottimale. Questo ha anche condotto all'estensione della faculty, cioè del comitato scientifico di grand'angolo. Quest'anno, insieme a Roberto Labianca e Andrea Ardizione, ci siamo chiesti ma non è meglio prendere delle persone esperte degli altri campi nel decidere la faculty, chi farà le relazioni in questo congresso di fine anno. Quindi questa complessità è stato il tema veramente dominante di quest'anno. Soprattutto è stato esplicitato, perché sono anni che diciamo questo, ma si è clonata talmente la complessità che abbiamo veramente serissimi problemi a seguire tutti i pazienti con varie patologie. L'ultimo tema è quello della asincronia tra ciò che succede nel mondo della science, e cioè i trial clinici che ci offrono questi avanzamenti, e ciò che succede nel mondo della clinical practice, daily practice, cioè oggi io cosa posso fare? Di mezzo ci sono gli aspetti amministrativi, gli aspetti regolatori, e quindi purtroppo c'è questo enorme problema tra oggi è disponibile questo che mi può portare alla guarigione di una certa neoplasia, però io non lo posso dare. E di nuovo, qui ci siamo tornati tantissime volte durante i tre giorni del grand'angolo, perché causa un disagio di natura etica profondissima per il medico, questo aspetto, sapere che tu puoi fare una cosa e non poterla dare, è veramente terribile. Ecco, è chiaramente un problema di crescita, di crescita della science nel mondo, e questo per fortuna, nonostante come sta andando il mondo adesso su tutti gli altri punti, nel campo della medicina e specificamente in oncologia, i progressi sono davvero enormi. grazie a tutti.